per non fare se cosa faccio la frozen city night mi capito sempre la frase si dice no che è pessimo ma dipende alla fine se sei uno di quelli che gioca sempre a fine ce n'è pochissima di nebbia in centro mappa e solo verso le basi verso l'esterno della mappa che c'è tanta nebbia a me non mi ha mai dato particolare fastidio io francamente non la sopporto però sinceramente è meglio della della notte nella river city beh però almeno è qualcosa di diverso dai se non altro cambiamo un po' anche quella lì con la nebbiolina guarda questo jager che spara a cazzo le munizioni che bel colore lo vedi a 300 km di distanza è un corentino sì c'è anche da dire che quella mappa qui non aiuta perché io sarei nero e sono grigio marty sei azzurro cielo tipo blu elettrico sì sì ma questi sono i colori dell'accademia sì sì ma di solito è un blu non così chiaro invece qui sembra azzurro tra l'altro è la mappa che è il calore che schiarisce così tanto io vedo la pancia del dragon grigia ma cosa spari niente stavo guardando quanto mi facevi in alpha strike per vedere quanto mi dava di percentuale di riscaldamento mi da il 44% in alpha strike di mi butta su e poi ho fatto il conto di quanti ho fatto il conto di quanti secondi cerchiamo di capire immediatamente da dove arrivano allora qua è tutto libro davanti al muro che io prima un po' come uno stordito mi sono fatto pure vedere hanno anche un disconnesso a fianco sinistro sembra libro al momento ma il problema è che è importante ciò che è e non ciò che sembra quindi giustamente occhi aperti abbiamo due Highlander che vanno in Golf 5 nostri sicuramente sono in coppia sì 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 due carabinieri la coppietta di Highlander minchia li fai neri con la banda rossa sembrano due carabinieri hanno preso un colpo di Gauss arrivava a sembrare così colpo da linea pop colpo da colpo da colpo da colpo da dragona bravo sì sì arrivano dai Q6 colpi sì arrivano dai Q6 colpi sì 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 mi sposto a destra io sono a destra adesso non vedo niente sì vorrei vedere se riesco appunto a vedere magari a prendere qualcuno quindi vabbè sappiamo che uno è lì e probabilmente anche qualcun altro è dietro perché arrivavano colpi di Gauss non solo dalla sua parte ma pure uno gioca che sarò è un dragon un dragon un fotone è il dragon di prima in giro sicilion mi sa che è siciliana ci sei italiano se sono furbi o no se non sono furbi hanno montato XL tutti quanti ovvio per montare gli armi che hanno montato se lo vai a 10 all'ora il dragon si è schiantato giù lo so di esperienza eh sì lo fate tutti gli aria la verona è una cosa è andata abbastanza sfida al centro attenzione fianco destro visto qualcosa eh fianco destro sto occupando io il dragon non ti preoccupare eh se sta ritornando verso il loro schieramento a occhio occhio sopra è l'under delta cazzo si è fatto la testa sinistra sinistra attraff e non è da solo occhio sopra postro che cazzo mi direi dell'RM ma fai un po' bravo è andato maledizione basta toccarlo ho sbagliato due colpi di fila veramente la pia ma porco giuda no bravo bravissimo ok c'è un catapult a destra K2 eh mi sa che se lo fanno gli altri è andato il catapult perfetto target acquired ok ragazzi cariciamo avanziamo cariciamo ecco 5 andiamo tutti lì ah proprio al centro ok si si 100 dritti ci teniamo coperti un lato no 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 va bene abbiamo gli haylander sul fianco destro noi passiamo dentro ecco 5 delta 5 gli prendiamo da dietro abbiamo l'altro sulla destra però è distratto dagli haylander quindi sono tutti distrati dagli haylander gli arriviamo sul culo entriamo da qui voi due pesanti tagliate l'eco 6 noi facciamo il giro un po' più largo diamo un'occhiata ok bella idea per la schiena un po' più quello fa male si tira ops dai andiamo a farci fuori i delta ah meglio perché è più ero ah non dovresti accedere così in alto c'è una magistrale un'altra di faccione di lente carissimi ecco anche lui ecco è andato perfetto non va poi mancarne get da 1 ecco ahiya Ah, ho lagghiato. Buona, buona, buona. Lì li abbiamo massacrati, appena li abbiamo messi nella sacca li abbiamo massacrati. Anche i due Lander se li sono cavati bene, no? Sì, sì, ma per quello che non ho guardato il fianco. Cioè, noi facevamo fianco sinistro, loro fianco destro, chiudavamo. Infatti è ben chiuso. GG.